Salutato Michele Todisco, benvenuto a Raffaele Clemente. Pesaro accoglie ufficialmente il suo nuovo questore della provincia, in quello che oggi è il suo primo giorno di lavoro nei panni di questo ruolo. Clemente, originario di Caserta dove c'è nato nel 1961, ha ricoperto diversi e importanti incarichi nella sua lunga carriera, che lo hanno visto nelle vesti di funzionario della Digos sia a Milano che a Roma, nelle attività di antiterrorismo e di contrasto a formazione neonazista e xenofobe, ma anche di comandante generale della polizia locale di Roma. Arrivato ieri in città, il nuovo questore di Pesaro ha sin da subito avuto delle buone impressioni della sua nuova destinazione e degli abitanti che ha incrociato per strada. Le sensazioni che è un posto bellissimo, vengo da Roma e quindi voglio dire, è una realtà piccola a misura d'uomo, ma ricca, piena di gente che lavora, che si sposta per lavoro, questa è una cosa che mi ha colpito immediatamente. Clemente ha inoltre affermato come questo nuovo ruolo sia per lui una bella opportunità di crescita professionale. Sicuramente sì, perché questo è un gioco completamente diverso. Io ho lavorato a Roma su fenomeni, su macrofenomeni e su dimensioni di persone profondamente diverse da questa, però come lì, anche qui, la prossimità è la cosa principale. Tu non vai a fare il poliziotto alla cieca, ci vai dopo aver studiato e ascoltato la gente. E bisogna farlo sempre, perché se tu ti dimentichi di ascoltare, non vai da nessuna parte. Possiamo sempre fare qualcosa, massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto. Queste parole, riprese dal giudice Giovanni Falcone, sono state usate dal nuovo questore per fare chiarezza sui prossimi interventi che li vedrà impegnati. Prima di fare qualcosa, vedere dove si mettono le mani e studiare bene le cose. Io ho fatto tante investigazioni politiche, tante investigazioni di tipo associativo. Mi sono occupato di gruppi di estrema destra per anni e anche lì tu devi studiare. Non si va alla Carlona, non si va a testa bassa, si ragiona e poi quando si prende la decisione si fa. Senza sì e senza ma. Al termine della sua presentazione Raffaele Clemente si è detto anche entusiasta della possibilità di essere a partire dal 2024 il questore della nuova questura. Il punto è che per fare la nuova questura occorre fare lavori, studiare, verificare tutto. È scritto nel protocollo che voi conoscete perfettamente e a me piacerebbe essere ricordato come il questore della nuova questura.